Quel giorno io ero in mezzo a un piazzale a 40 gradi dal caldo che c'era perché mio marito non mi ha voluto in casa perché doveva sentire la partita con il suo amico e dopo un bel po' non avevo orologio, non avevo niente, ho detto adesso vado a casa, sarà come Dio vuole io non posso più stare qui al caldo. A metà scala mi è corso in testa, ormai è una fuga perché dalla contentessa che aveva, non sapevamo ancora che aveva fatto gol, però sapevamo che l'Aranzio aveva fatto gol. Dopo mi ha telefonato da Roma, un'amica di Roma mi ha detto che aveva fatto gol Giuliano, dopo per una settimana lui non si tratteneva più, una festa di continuo. dopo è arrivato Giuliano, alla fine siamo stati tutti contenti, non tanto per lui ma per la società stessa che si è salvata, insomma, gli era successa una bella cosa, ecco, a tutta la squadra, non solo lui perché, per dire la verità, comunque è andata bene.